ciao a tutti appassionati di anime manga sono Alex come sempre il video seguimi qui su youtube, su instagram, su twitch e anche su un gruppo telegram per stare sempre aggiornati tutti i link li trovate qui sotto in descrizione vi ricordo inoltre di attivare la campanellina per non perdervi ogni mio video oggi farò la prima impressione di Sabu e Ichi edito dalla Ikeris prezzo 14 euro 90 manga di Shotaro Ishinomori il maestro di gonagai finalmente è arrivato da noi fino dopo anni è un manga del 1966 quindi abbastanza vecchio vecchiotto però è sempre tanta roba perché Shotaro Ishinomori è uno dei padri fondatori del manga diciamo ovviamente c'è creato i super sentai che poi sono derivati power ranger ha creato cyber 009 che anche lì parte come idea di di un gruppo di super eroi e poi comunque ha insegnato parecchio a gonagai Kamen Rider da noi poco conosciuto ma in giappone è un fenomeno Kamen Rider quindi ha comunque creato parecchi manga di notevole livello questo è un manga ambientato ai nel periodo evdo quindi o il periodo tokugawa è uguale quindi da 1600 alla seconda metà del 1800 circa un po più in su dove abbiamo il nostro i due protagonisti Sabu che è uno shita paki cioè un agente governativo però quello di più basso livello investigativo c'è investiga cerca di scoprire risolvere i casi crimini e cose similari è armato di gitte cioè non so se si vede bene ma è una specie di manganello con una corda attaccata lui è esperto a far ruotare questo manganello perché è una corda molto più lunga di quello che i dovrebbero avere perché non solo un cortino di solito lui è proprio un nastro lungo e lo sfrutta appieno facendo tornati vortici colpendo la distanza faceva tornare indietro e ha molte tecniche molto particolari cioè quello che ho apprezzato quello che mi ha fatto apprezzare che lui usa i nomi di tecniche se l'inventa cioè nel senso per ogni tecnica che usa anche facendo ruotare così gli dice tornando è il dragoti questo sto sparando però è per farmi capire il concetto quindi molto interessante perché comunque ripeto ed è 66 questo manga quindi non c'era ancora il concetto dei battle manga moderni che per ogni tecnica ha un suo nome era un mondo completamente diverso anzi battle manga neanche esistevano intesi come adesso perché da okuto no ken a dragon ball prima non c'era nulla di questo cioè i primi okuto no ken e dragon ball e poi sono arrivati tutti gli altri ma prima non è che c'era molto questo filore anche perché forse prima in manga era molto più non dico per ragazzi però comunque abbastanza maturi le persone non è proprio uomini adultissimi o per bambini andavano o o per comunque adulti non c'era proprio una via di mezzo tanto tempo fa cioè all'inizio e l'altro coprotagonista è ichi che è un monaco cieco maestro di yaido c'è questa arte di estrarre la spada velocemente colpire poi a rifolerà la spada questa tecnica qua molto è una cosa molto veloce poi lui è cieco però dice che il cuore ha mille occhi quindi riesce a vedere tutto col cuore non ditemi come fa però riesce a vedere a percepire un po come dare devil non è lo stesso funzionamento perché non ci dato sapere come funziona almeno nel primo volume però riesce a vedere ovunque cioè riesce a capire cosa sta succedendo e quindi vediamo per appunto storie autoconclusive dove due il duo savo e ichi un po come stars che ha cercano risolvere i vari casi di quel periodo ovviamente vedremo gli usi costumi nel periodo edo gli abbigliamenti la politica che c'era ovviamente alcune parole di quell'epoca unità di misura eccetera quindi è anche un affresco storico di quel periodo perché ancora non ha visto conosce quel periodo storico può essere anche interessante anche per quello poi ripeto è comunque un autore che almeno un volume almeno un manga bisogna averlo io ho fatto ho letto molte altre sue opere che durante il prossimo che durante lo scorre del video vi compariranno sopra quindi se siete curiosi andate a vedere le sue opere perché soprattutto saiba 009 lo so che è difficilissimo da reperire però prendete se riuscite avete la possibilità di prendere dovete prenderlo o kusai manga che è un volume unico o musashi mi ha moto che anche quello un volume unico entrambi di jpop o ishinomori probito quello della hikari invece quindi io aspetto spero che poi mi porti anche kamen rider prima o poi qualcuno in italia perché è inedito e lo voglio a tutti i costi prima o poi spero che me lo portino perché ci hanno fatto telefilm in giappone e tante altre cose comunque se mi piace l'arte la spada e combattimenti con la spada comunque combattimenti del periodo feudale giapponese con varie armi diverse fa il caso vostro soprattutto se mi piace il periodo storico secondo me molto molto interessante poi bello comunque sono tutte storie autoconclusive quindi non c'è una trama specifica di fondo lineare sicuramente più avanti penso e spero che ci farei spiegate un po rapporto del duo cioè come si sono conosciute all'inizio e e la loro storia e il loro passato secondo me e spero che più avanti compaia storie di questo genere un vero finale non ce lo vedo cioè non so dove voglia andare a parare a meno che forse sabu di fare carriera cioè migliorare la carriera e diventare qualcosa di più importante che l'ultimo degli agenti investigativi cioè piano piano serie di di categoria staremo a vedere però comunque essendo manca comunque che qualche modo poi ha fatto la storia di un autore che anche lui ha fatto la storia del manga è una possibilità gli adò detto questo vi ringrazio se vi è piaciuto mi raccomando iscrivete al canale lasciate like noi ci vediamo ai prossimi video